Il danzatore siciliano si è raccontato sulle pagine di Novella 2000. Sulle pagine della rivista Gossip Madonia ha ripercorso la carriera esplosa nel 2006 quando ha partecipato per la prima volta allo show del sabato sera condotto da Millie Carlucci in coppia con Pamela Camassa. Successivamente si era dedicato ad altri progetti fino a quando tre anni fa la presentatrice l'ha voluto ancora una volta nel cast del programma. Ho curato la parte serale di Amici di Maria De Filippi e poi nel 2017-18 ho rincontrato Millie Carlucci che mi aveva seguito, era fierissima di tutto quello che mi era accaduto e sono, tornato a casa. Prima preparando gli ospiti, i ballerini per una notte, e successivamente nel cast fisso, prima con Emma Stoccolma e poi con Paola Perego l'anno scorso. Da lì, due giorni dopo, sono andato a Madrid per fare ballando con la Sestreas in Spagna. Fonte Novella 2000, Angelo Madonia parla per la prima volta di Sonia Bruganelli. Non poteva mancare un riferimento alla storia con Emma Stoccolma nata a suon di danza proprio nello show del sabato sera di Millie Carlucci. Ero single. Tranquillo, risolto, ma non me l'aspettavo. Mi stavo dedicando solo alle mie bambine, Alessandra e Matilde, ma i sentimenti non si possono controllare. È successo. Poi è finita e ora con lei non abbiamo rapporti. Archiviata la relazione con la speaker radiofonica, al fianco di Madonia è apparsa Sonia Bruganelli, con la quale è stato avvistato in diverse occasioni negli ultimi mesi. A questo punto il ballerino ha rotto il silenzio sulla stoia, affermando. Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo, nelle ultime ore è arrivata la voce su una possibile partecipazione dell'ex moglie di Paolo Bonolis proprio al programma che ha lanciato al successo la sua nuova fiamma. Sul settimanale chi si legge, senza fare giri di parole, come concorrente non avrebbe di certo a fianco Angelo Madonia, storico ballerino di Millie Carlucci che da qualche settimana si vede assiduamente accanto a Sonia. La proposta da parte del team di Ballando c'è. E se Sonia dovesse accettare, l'idea le piace, la vedremo protagonista in un'altra bellissima sfida. Ma non in coppia con Madonia.